Colposo l'incendio di San Bughetto in Vallestrona ha denunciato un 71enne proprietario di una baita in zona. I dati dell'Osservatorio regionale del turismo disegnano un buon avvio di stagione in Piemonte dopo un dispetto 2021. Da giovedì stop all'attività vaccini a Olegio Castello e al Pallagrin di Arona resta attivo solo Lab di via Montezeda. A Domodossola il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione e il documento pareggia attorno ai 37 milioni di euro. Pagine di benessere, il tema della fabbrica di carta, il salone del libro locale in programma dal 22 aprile al 1 maggio a Villa Dossola. I verbanesi del Postaccio, Bocce, pareggiano in terra salernitana e adesso due gare interna e si comincia con la Codognese. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizia. In apertura c'è la cronaca perché continuiamo a parlare anche in questa edizione dell'incendio che divora i boschi del Cusio. I carabinieri forestali hanno individuato l'origine del rogo e hanno anche denunciato una persona. Si tratta di un pensionato. Partiamo da qui. Un fuoco acceso per bruciare delle sterpaglie. È partito così il terribile incendio che da sabato ha distrutto boschi e pascoli della Valstrona, sconfinando fino alla Valsesia. I carabinieri forestali di Omenia hanno però già identificato e denunciato il presunto responsabile. Si tratta di un 71enne proprietario di una baita a Sambughetto, Piana Ferrara. L'uomo stava pulendo un sentiero realizzando un pozzo di convogliamento delle acque meteoriche. Ha deciso di bruciare il materiale vegetale tagliato. Complici il vento e la siccità, in pochi istanti il fuoco ha invaso il sottobosco e non si è più fermato. I carabinieri sono riusciti a individuarlo grazie alle testimonianze di due persone che si trovavano con lui e che lo stavano aiutando. Lo hanno sconsigliato di appiccare il fuoco, ma l'uomo lo ha fatto comunque. Ascoltato dai militari alla stazione di Omenia ha ammesso le proprie colpe. Per lui è quindi scattata la denuncia per incendio boschivo colposo. Deve rispondere di un'area di oltre 50 ettari di bosco e pascoli andata in fumo. E con il prossimo servizio vi portiamo sul campo dove da quattro giorni stanno operando vigili del fuoco, volontari AIB, una grande mobilitazione per cercare di contenere il fuoco, anche se sta diventando davvero difficile. Si spera nelle prossime ore, nell'arrivo della pioggia, solo il cielo infatti potrebbe dare una mano a chi opera sul campo. Siamo sopra l'Alpe Camasca, sotto l'Alpe Corgiolo, situazione preoccupante? Situazione preoccupante perché non riusciamo ad avere la meglio sul fuoco. Purtroppo continua a prendere vigore, il fronte continua ad avanzare, il fronte è molto ampio. Parliamo di circa 3 km di fronte. Ci sono molte squadre impegnate su vari versanti, ancora anche sul versante della Vallestrona, ma continua a prendere forza. Stiamo cercando di controllare, soprattutto mettere in sicurezza gli alpeggi, le baite. A guardia mia di tutte quelle che sono le strutture presenti. Un paio di baite sono purtroppo già andate in fiamme però. Questo me lo stava dicendo il sindaco prima, sì, sembrerebbe che in un alpeggio purtroppo una baita è bruciata. Non sappiamo l'entità dei danni perché purtroppo alcuni alpeggi non sono ancora stati raggiunti dagli uomini a terra. Stiamo lavorando con i mezzi aerei e cerchiamo di fare tutto il possibile. Quanti uomini sono impegnati su questo fronte di 3 km in questo momento? Ci sono varie squadre, sia del comando provinciale che degli staccamenti volontari che si stanno alternando sul posto. Parliamo di all'incirca 10-15 persone ogni turno, più tutto il personale volontario e le squadre IB. Cosa si può fare adesso? Mi ha solo sperare nel tempo. Ecco, alle nostre spalle l'incendio. La porzione che fa più paura è quella proprio alle nostre spalle perché sotto c'è un tratto più vegetato e se arriva lì sono dolori. Diciamo che questa mattina la situazione era molto molto più grave e intensa. Adesso l'abbiamo contenuto su questa costa dove ci sono alcune baite che abbiamo protetto e messo in sicurezza. Ora stiamo proteggendo questo versante in maniera tale che non ci giri l'incendio e ci vada nuovamente a interessare le baite. Dopodiché procederemo con lo spegnimento del versante che sta scendendo verso la pineta. Mentre il versante qui dietro, questa stalla, lo stiamo attendendo per fermarlo su un canalone. Quindi non ci preoccupa più di tanto. Oltre, l'incendio a Norsi è già fermato. Tra l'altro abbiamo visto già che avete amato qualche uomo sull'elicottero per le opere di bonifica. Sì, abbiamo trasportato personale WF all'apice della parte bonificata dall'elicottero, dall'Evixson che ha lavorato prima, in maniera che mette in sicurezza tutto il versante. Anche il sindaco tra i volontari in prima linea, insomma, situazione drammatica, sindaco. Direi proprio di sì. Questa volta ci è capitata brutta veramente. Non me l'aspettavo e è stata veramente una botta che non ci voleva. Però siamo qua e cerchiamo di rimediare. L'Unione fa la forza davvero? Assolutamente sì, sempre e comunque. Sempre e comunque. Uniti sì, fa qualcosa da soli. Adesso la speranza è che dal cielo finalmente arrivi un po' di acqua. Purtroppo sì, perché il terreno è impervio, non si può andare vicino al fuoco, non dobbiamo rischiare assolutamente. Siamo qua come volontari e cerchiamo di fare il possibile. Speriamo che piova, perché in alcuni punti riusciamo a spegnere anche l'ausilio dei mezzi aerei, però dopo un po' d'aria si riprende. E noi voltiamo pagina, parliamo di turismo, perché a Torino la Regione ha convocato una conferenza stampa per dettagliare sui numeri di quella che è l'industria turistica piemontese. È stato fatto un quadro relativamente ai dati del 2021, ma soprattutto l'osservatorio regionale ha dato una prospettiva per il 2022. Nel 2021 il turismo in Piemonte ha avviato la ripresa. Ha fatto registrare più il 62% di pernottamenti fra luglio e dicembre. In agosto i dati hanno superato i livelli del 2019, più 1% di arrivi e più 7% dei pernottamenti, trainati maggiormente dalla componente nazionale. In recupero la quota estera rispetto al totale, che torna intorno al 40% dei pernottamenti. Migliora anche il sentimento del prodotto turistico piemontese. Il punteggio è 88 su 100, con più 0,4 rispetto al 2020, e al di sopra della media italiana che è all'87,2 su 100. Sale anche l'indice delle transazioni con carte di credito in loco, con un aumento della ricaduta economica del settore alloggio. Sono i dati diffusi dall'osservatorio turistico della regione Piemonte, presentati oggi a Torino. Il Piemonte sta ripartendo anche dal turismo e lo sta facendo a velocità doppia rispetto al resto d'Italia. Così il presidente della regione Alberto Cirio, oggi in una conferenza stampa sul turismo con l'assessore regionale Vittoria Poggio e il presidente di Visit Piemonte DMO Beppe Carlevalis. Nel 2021, ha sottolineato Cirio, abbiamo consolidato un aumento dei pernottamenti del 40%, mentre la media di aumento in Italia è stata del 20%, quindi abbiamo corso a velocità doppia rispetto al resto del paese. E questo, rimarcato, è un grande e bello segnale per il futuro, soprattutto nella consapevolezza che il turismo non è solo un banto, è anche lavoro. Sono posti di lavoro e ricchezza per la nostra economia. Al turismo, ha aggiunto Cirio, destiniamo una fetta importante dei fondi europei in generale, non solo del PNRR, concentrandoci su due settori, la riqualificazione delle strutture per l'accoglienza e la montagna intesa non solo in chiave invernale, ma anche in chiave estiva, perché il Piemonte oggi punta su un turismo che ha nella neve il suo punto di forza, ma che ormai viva a 360 gradi. E ora invece vediamo quali sono i dati Covid per il Piemonte. Sale all'11% il tasso di positività al Covid in regione, riscontrato con l'esito di più di 32.000 tamponi, di cui 35.121 antigenici. I nuovi casi sono stati 3.874, il numero più alto negli ultimi mesi. I ricoveri sono due in più nelle terapie intensive e ora il totale è di 22, 6 in meno negli altri reparti, 604 ricoverati. Sette sono stati i decessi, nessuno relativo oggi. I nuovi casi di guarigione sono stati 3.274. E rimaniamo in argomento per parlare però di vaccini, perché l'azienda sanitaria di Novara ha riorganizzato, rimodulato l'offerta vaccinale, nel senso che chiudono alcuni punti e rimane attivo nell'Aronese solo il lab di Via Montezeda. I centri vaccinali della Prolegio in Via Montezeda ad Arona chiudono i battenti il 31 marzo. Infatti in quella data l'Ast di Novara riconsegna le strutture occupate in comodato d'uso gratuito alla Prolegio dopo un periodo di sei mesi per la campagna vaccinale. Quindi dal primo di aprile le attività vaccinali saranno esplettate al centro prelievi di Arona in Via Fogliotti. Afferma Marco Cairo, sindaco di Olegio Castello e medico di base. Come operatori sanitari siamo molto soddisfatti per l'attività svolta che ha dato un aiuto indispensabile a tutto il territorio della nostra asla, soprattutto nel lungo periodo in cui ci sono stati problemi strutturali al centro vaccinale di Arona. Nell'organizzazione quotidiana un particolare ringraziamento va all'Associazione Volontari Ospedalieri, all'AIB e ai volontari oleggesi che ci hanno dato un supporto fondamentale nell'accoglienza delle persone candidate alla vaccinazione. Desidero rendere pubblico un riconoscimento a Ivano Castelli, della ditta Arona Scavi, che in una sola giornata ha realizzato nel prato di fronte alla Prolegio un parcheggio atto ad accogliere in sicurezza la moltitudine di persone arrivate da tutta l'asla per il completamento del ciclo immunizzante. La collaborazione e la conoscenza portano spesso ad ulteriori gradi eventi, come il corso volontari che l'AVO terrà iniziando da fine aprile nel Salone della Proloco. La Prolegio riprenderà le sue attività programmate con l'obiettivo di aumentare la fruizione del centro. Olegio Castello ha avuto un ruolo centrale in quello difficile periodo e si propone di continuare ad esercitare in sinergia con i comuni vicini un'attività di valorizzazione del territorio. Ora a Domodossola, dove lunedì sera si è riunito il Consiglio Comunale all'ordine del giorno 7 punti, per lo più questioni finanziarie, a cominciare dalla bilancio di previsione, ma è stato discusso e approvato anche il documento unico di programmazione per il prossimo triennio. Il bilancio è passato con i voti favorevoli, 12 della maggioranza, ci sono stati due astenuti, Lega e Fratelli d'Italia, due contrari, PD e Domo domani. I quattro consiglieri di minoranza hanno motivato in aula il perché del loro voto, una discussione comunque veloce, anche perché il consigliere di minoranza Ricci ha spiegato che non sono stati presentati emendamenti, perché tanto non li avreste accettati. Assessore, che bilancio è questo? È un bilancio oculato, un bilancio importante perché sono più di 36 milioni di euro in chiusura, è comunque, come dicevo, un bilancio oculato che ci caratterizza come amministrazione. Abbiamo rispettato tutti i parametri richiesti dalla normativa, abbiamo cercato di far fronte alle esigenze economiche del momento, ricordiamo l'aumento delle bollette che ci spaventa tanto perché non sappiamo ancora i trasferimenti statali quanto saranno, un bilancio di speranza si può dire. Un bilancio che delinea le scelte future come ogni documento contabile politico, ricco anche di investimenti per l'anno. Certo, sono più di 8 milioni, 8 milioni e 87 mila euro mal contati, un elenco notevole di opere pubbliche, però una promessa fatta alla città e sempre mantenuta in questi 5 anni. Un bilancio che non prevede aumenti tariffari? Assolutamente no, ci siamo impegnati, abbiamo lavorato intensamente da questo punto di vista. L'unica differenza rispetto al bilancio dello scorso anno, non in termini di poste di bilancio, bensì di scaglioni, è quello dell'IRPEF. La finanziaria del 2022 ci impone proprio di cambiare questi scaglioni. Abbiamo cercato quindi di rimodularli, ma mantenendo inalterate agevolazioni e il più possibile anche la tassazione all'interno dello scaglione stesso. E a complemento della riunione di lunedì sera del Consiglio Domese, va detto che i consiglieri di minoranza hanno sottoposto l'attenzione del governo Pizzi-Idee per contribuire alla vita amministrativa. Si è così parlato di turismo, di più attenzione per le periferie, nuove assunzioni per il corpo della polizia locale, suggerimenti per la futura organizzazione della biblioteca antica, alcune idee, spunti posti appunto dalle minoranze. E vi abbiamo riferito nei giorni scorsi della due giorni che Crodo ha ospitato e dedicato al progetto Traccialegno per parlare delle risorse legno di territorio di qualità e sostenibilità delle filiere locali. Un convegno promosso dal Consorzio Forestale dell'Andifore che ha coinvolto amministratori, tecnici e addetti ai lavori. Oggi facciamo il punto con il Presidente del Consorzio, Lince. Direi che è stato significativo anche per il momento in cui è stato realizzato perché sappiamo che andiamo incontro a una crisi energetica profonda e quindi il fatto di doversi industriare al massimo per poter far sì che ogni territorio contribuisca a risolvere il problema certamente non per conto proprio ma anche per quanto possibile per conto proprio è ovviamente di rilevanza immediata del momento, quindi di piena attualità. I problemi trattati riguardano un po' tutto il discorso dal legno da opera di pregio e quindi la valorizzazione dei prodotti di alta falegnameria fino alle opere artistiche in legno ma poi fino all'utilizzo anche di tutto quello che non può essere utilizzato se non come biomassa per produrre energia. Quindi è un discorso molto completo che coinvolge specificità tecniche e tecnologiche importanti ma viene appunto nel momento giusto proprio nel momento in cui anche le grandi imprese diciamo idroelettriche che producono energia si stanno muovendo per forti investimenti proprio anche nel settore bosco quindi è di piena attualità perché questo spinge non solo la tecnologia ma permette anche delle aggregazioni a livello locale di filiera e cioè di collegamento tra gli operatori sul territorio con gli enti pubblici attivando dei finanziamenti regionali anche attraverso ad esempio i GAL eccetera di modo che ci sia una compartecipazione di tutto il settore perché si possa muovere nel minor tempo possibile per affrontare l'emergenza. È iniziata lunedì e andrà avanti ancora per qualche giorno l'asta benefica promossa dall'Associazione Lamberti per aiutare i profughi presenti nel BCO. Arte e solidarietà, ecco questo è un abbianamento importante soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo oggi perciò non sorprende che l'Associazione Lamberti ha voluto mettere, mette all'asta una serie di opere del pittore Caramella per raccogliere fondi a favore delle famiglie ucraine che sono in questo momento nel nostro paese. Come si svolge questa iniziativa? Roberto Lipamonti. Giancarla Caramella che è la figlia dell'artista ha pensato di donare alcune opere tra disegni e oli del padre per questa iniziativa. Noi abbiamo sentito la fondazione comunitaria del BCO la quale ha preso in considerazione questa nostra iniziativa metteremo all'asta questi bellissimi disegni a prezzi modici in modo da poter raccogliere dei fondi e destinare ai profughi dell'Ucraina. Noi nella nostra esistenza non avremmo mai pensato di trovarci in una situazione così forte come quella che è la guerra. Quante sono le opere che verranno messe all'asta e poi soprattutto come si svolgerà quest'asta? Allora le opere che saranno messe all'asta online saranno viste sarà poi in modo di vederle tutte sul sito dei Lamberti www.associazionelamberti.it, sul sito del Comune di Omenia e sul sito della Fondazione l'asta si svolgerà dal lunedì 28 marzo e terminerà il 6 aprile sono una quarantina di opere, i prezzi modici E sul tema della guerra in corso nel cuore dell'Europa anche se i colloquio d'Erni lasciano intravedere qualche timido spiraglio di dialogo torna Don Renato Sacco nel suo contuesueto appuntamento del martedì all'interno del nostro Tg. Sì, bentrovati a tutte e a tutti. C'è bisogno di tenerezza, poi vi dirò chi ha detto questo perché viviamo questi giorni di dolore, di fatica, di preoccupazione, di guerra che rovina tutto, rovina la vita delle persone che scappano la vita delle persone che muoiono in guerra ma rovinano anche le nostre relazioni siamo tutti un po' più tesi, arrabbiati e si respira un'aria anche proprio un po' di violenza nelle relazioni e nelle parole Papa Francesco non molla un attimo, anche domenica ha ribadito che la guerra è disumana, barbara, sacrilega ha detto appunto ma qui siamo pazzi a ripensare di aumentare le spese militari ecco, Papa Francesco non perde l'occasione è un richiamo anche per noi condivido con voi in questo tempo faticoso due momenti, due iniziative la prima che vedrà anche Paschristi di un convoglio di pulmini forse una cinquantina che va in Polonia e poi entrerà in Ucraina proprio per essere accanto alle vittime della guerra per non stare solo a vedere per dire no alla guerra e partirà in questi prossimi giorni magari ne parliamo anche venerdì con non di solo pane con la Papa Giovanni con tante altre associazioni in questo diciamo fine settimana in Ucraina per dire no alla guerra accanto anche ovviamente a tutte le vittime portando aiuti e solidarietà l'altro appuntamento è a Genova ve ne avevo già parlato accanto ai lavoratori del porto che da qualche anno si rifiutano di caricare le armi sulle navi o di scaricare perché dicono la guerra parte da qui dalla scelta della coscienza di ognuno allora quando si dice cosa si può fare ecco noi a Genova sabato pomeriggio diremo non collaborare con la guerra in tutti i modi cambiare anche la testa e la mentalità e sapete chi ha detto che abbiamo bisogno di tenerezza? il grande professor Borgna psichiatra di Borgomanero dopo un'intervista alla stampa di Marcello Giordani gli ha detto ma di che cosa avremmo bisogno noi oggi? di tenerezza vi saluto ci vediamo venerdì con non di solo pane e noi ora parliamo della fabbrica di carta che torna tra meno di un mese è iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2022 a numero 24 della fabbrica di carta in programma dal 22 aprile al 1 maggio a Villa Dossola annunciato il tema di quest'anno pagine di benessere all'interno del percorso espositivo proporremo dunque spiegano gli organizzatori un'ampia selezione di titoli che attingono dal mondo della psicoterapia del benessere personale della crescita interiore dell'ambiente e del contatto con la natura non mancherà naturalmente il cuore della nostra proposta editoriale legata ad autori storie e tradizioni del verbano Cuseo Ossola gli ingredienti della fabbrica di carta uno degli eventi culturali più amati dell'intera provincia sono infatti un perfetto mixtra editoria locale e nazionale insieme alle numerose presentazioni con gli autori e agli eventi collaterali che attirano ogni anno un folto pubblico di lettori appassionati uno spazio rilevante sarà dedicato agli editori locali che proporanno le loro novità più interessanti e agli editori piemontesi la cui presenza si rivela ogni anno molto apprezzata anche l'accesso a questa edizione del Salone del Libro sarà organizzato con il collaudato percorso a senso unico inaugurato nel 2021 e le dirette Facebook permetteranno di assistere anche in remoto agli incontri con gli autori confermato pure l'allestimento della consueta mostra fotografica quest'anno curata dal gruppo fotografico Solano la Cinefoto dal titolo bellezze nascoste o da riscoprire del VCO il taglio del nastro è fissato per venerdì 22 aprile alle 20.30 ospite di questa la prima serata sarà lo scrittore Michele Marziani che presenterà il suo nuovo libro La cura dello stupore appunti sull'arte di Cavarsela e star bene con se stessi il Salone del Libro delle Autore e d'editori del Berbano Cusiossola è organizzato dall'associazione Libriamoci editori e librari del VCO e realizzato con il supporto della provincia con il patrocino di Regione Piemonte Consiglio regionale del Piemonte distretto turistico e comune di Viladossola e con il contributo dell'Unione Montana Altaossola e di Vinavil per informazioni calendario eventi e aggiornamenti www.fabbricadicarta.it Siamo allo sport partiamo dalle bocce La pausa è servita solo parzialmente alla bocciofila di Possaccio il pareggio in terra salernitana contro l'Enrico Millo non è da accogliere con esultanza va bene ma non benissimo per fortuna del team caro al presidente Dario Mazzolini sabato scorso la Galligel ha perso a Fossombrone e Boville è stato fermato sul pari dalla Codognese in classifica Caccialanza parte si combatte per le piazze d'onore in Oxmosciano 21 punti Galligel 18 Possaccio e Boville 17 il DS Tosi decide per una terna diversa Signorini Andreani e stavolta Rossoni al tiro che vince il primo set e perde il secondo l'individualista Giovanni Scichitano a sua volta perde il primo set e vince il secondo solito 2 a 2 all'intervallo poi la coppia Signorini-Andreani vince il primo incontro ma sull'altro campo tra l'altro si tratta di terreni impossibili Scichitano e Paone perdono 2 a 8 sul 3 a 3 tutto è ancora possibile però Scolletta e il subentrato Noviello rifilano un pesante cappotto ai portacolori verbanesi per fortuna sul campo 2 il subentrato Mazzolini in compagnia di Scichitano salva la giornata con un paio di ottime giocate l'ultimo set finisce 8 a 6 per Possaccio che porta a casa un risicato pareggio ora si tratta di recuperare lo smalto delle prime uscite e il prossimo sabato ecco che lo scontro con la Codognese nell'ultima giornata del girone di andata arriva al momento giusto l'occasione è ghiotta per trovare la sesta vittoria stagionale sta per partire anche la stagione della squadra femminile che ha acquisito le prestazioni delle sorelle Ceriani la prima delle quali Eleonora è campionessa italiana in carica le altre due sono Martina e Rebecca quest'ultima giovanissima riconfermate Natalia Combi Claudia Lomazzi Maria Grazia Guazzoni e Marilena Giorgetti moglie del DS Mauro Aralossi si tratta di un girone a 5 ci sono anche l'Osteria Grande la favorita poi Grosseto e Cortona prima gara il 9 aprile nel Reggiano contro la San Martinese si gioca in individuale e in coppia in campo contemporaneamente soltanto due giocatrici di Serie A per volta auguri alle 20.35 l'appuntamento è con Baschettando che torna in replica mercoledì alle 13 e 17.30 appuntamento con Baschettando qui a Omegna insieme a noi torna Mirko Turel che lo vediamo là nell'angolo dopo settimana scorsa perché si è sacrificato salvando i suoi compagni che erano via dopo la trasferta di Piombino grazie Mirko a voi e Duilio Birindelli ciao Duilio ciao buonasera sei un po' arrabbiato un po' come tutti dopo questo K.O. di strettissima misura beh sì veramente dispiace dispiace perché abbiamo sbagliato una partita e potevamo agganciare la beta però insomma magari questa sconfitta dà anche la giusta motivazione in vista della partita di sabato contro Alba sì quello sicuramente questa è una squadra che quando ha perso si è rialzata e dobbiamo continuare a farlo è uno scivolone brucia ma dobbiamo subito pensare alla prossima di questo e molto altro parleremo qui a Baschettando è tutto grazie buona serata